Si fa visitare da un giovane medico e dopo una sola visita inizia però a tormentarlo attraverso messaggi e chiamate a tutte le ore del giorno e della notte. La brutta disavventura è capitata ad un medico di 42 anni residente a Roma. La donna, poco più che trentenne e residente in un comune dell'Aquilano, è stata diffidata dal questore nel portare avanti la sua condotta persecutoria nei confronti dell'uomo dopo l'ammonimento. Il medico, infatti, a causa del comportamento della donna, era stato anche costretto ad interrompere, tra l'altro, la sua attività professionale. Esasperato da questo continuo stalking, si era visto costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per far desistere la donna. La normativa vigente, come è noto, prevede l'adozione dell'ammonimento per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedubile a cui era di parte, sconvolgono la vita della vittima, come era accaduto proprio in questo caso, portandola all'esasperazione. E costringendola a vivere, prigioniera della paura, costretta a subire telefonate, come in questo caso, e messaggi davvero in tutte le ore del giorno e costringendola addirittura, come è stato in questo caso, a dover interrompere la sua attività di medico a causa dei comportamenti della donna.